Carmen Casula, il Comune è stato vicinissimo a questa manifestazione, un secolo d'azzurro. Sì, il Comune ha voluto partecipare attivamente alla realizzazione di questa manifestazione perché attraverso un secolo d'azzurro possiamo veramente capire quello che la città di Taranto ha regalato attraverso lo sport alla nazionale italiana. La città di Taranto in questi giorni che andranno dal 29 al 2 aprile ospiterà una serie di cimeli che rappresentano, come dicevo prima, quello che è la partecipazione attiva di Taranto. È importante sottolineare il fatto che il Castello Aragonese diventa scenario quindi di questa iniziativa rappresentando quello che lo sport dà quotidianamente alla vita di ognuno di noi. Ebbene, in questa mostra itinerante che fa tappa a Taranto non possiamo dimenticarci di quello che questa città quindi ha dato agli azzurri calore, passione e amore per la patria. Ed è per questo che invito la cittadinanza tutta a prendere parte in questi giorni a questo evento.